Ciao ragazze Ciao bimbi Ciao bimbi In questo video vi dobbiamo far vedere Un sacco di acquisti che abbiamo fatto E anche un sacco di idee regalo Allora innanzitutto ragazze Vi devo far scoprire i miei nuovi gioielli Che non credo di averveli ancora presentati Qui su youtube sono stupendi E secondo me sono perfetti per Natale Infatti li abbiamo chiamati Christmas Pears Le perle di Natale C'è bracciale con lana Sempre in argento e oro E pietre preziose E ci sono anche gli orecchini Quindi è una collezione bellissima Secondo me ovviamente già sta andando a ruba Quindi vi dovete affrettare Secondo me sono troppo carini Anche da indossare nelle feste E li trovate scontati su caritashop.com Poi Hai fatto le colpette? No Ragazzi inoltre Io vi devo dire una cosa importantissima Ordinate adesso i vostri regali e autoregali Su caritashop.com Così ricevete il pacco prima di Natale Non tardate In questi giorni dovete Se no poi non ce la fare Quindi ordinate oggi ma se o domani Comunque ordinate ragazzi Anche perché le cose stanno andando a ruba Adesso vi facciamo vedere un po' di confezioni Ci sono un sacco di dei regalo Prodotti scontati E in più riceverete la scatola di Natale Se ordinate adesso con cioccolatini di Natale I campioncini La cartolina di Natale Che volete più? Un codice sconto E ve lo diamo anche il codice sconto Ve lo diamo in esclusiva qua su Youtube Trullo di tamburi Buon Natale Merry Christmas No buon Natale Allora inserite il codice buon Natale E avrete lo sconto al carrello su tutto il sito Quindi ragazzi affrettatevi Perché le cose stanno andando a ruba Basta è vero Quindi ordinati in fretta E in più ci sono anche un sacco di novità E cose scontate In più a questo sconto Ci sono anche tanti altri sconti sul sito Allora innanzitutto Cosme Siciliana Ragazzi queste fantastiche confezioni Allora basta C'è anche la promo Cioè se comprate due prodotti Cosme Siciliana Avete una crema Ma in regalo del valore 18 euro In più sono tutti scontati anche i prodotti E allora se prendete due prodotti Vi facciamo questa confezione Guarda come è bella Bellissima Se ne prendete tre invece Vediamo questa fantastica scatola Bellissima Dove dentro ci mette tutti i prodotti Ci sono le creme Proprio un sacco di cose Poi c'è anche questa qua Queste per i prodotti Etna Sono stupendi Bagnodoccia Crema rassodante e profumo È una bellissima idea regalo Poi vorrei far vedere queste qua Queste sono quelle di Alchemilla Che sono scontate al 20% Sono bellissime È anche durata Sì ci sono di varie profumazioni Falla vedere una aperta Dentro contengono Crema Bagnodoccia Crema mare Comunque tutte profumazioni Che sono perfette Come idea regalo Daniele ovviamente Che si fa sentire In ogni video C'è anche lui Natale Poi ragazze Questa qua di Feria È bellissima Considerate che di Feria Ci sono Amore Valla a prendere Vuole fare anche lui il video Dai C'è anche il polletto Che ti fa Non lo farci dare Amore Allora Daniele ho già fatto il vaccino Quindi è un po' nervoso Amore Sei bellissima Comunque ragazzi Vi dicevo Queste confezioni di etere Anche sono scontate E ci sono Con diverse tipologie Di prodotti E Sono stupende Con la linea l'oro L'ascitorialurone Comunque venite a vederle E poi secondo me Sono bellissime Anche queste Stanno finendo Proprio come il pane Poi ci sono queste confezioni Anche della saponare Queste sono bellissime Queste le avevamo Anche l'anno scorso Sono stupende Infatti erano andate Soldato tipo in un giorno Anche adesso Costano pochissimo E poi Le confezioni Poi le confezioni Dottor Organic Questa qua al cocco Ci sono diverse Comunque Venite su Caritashop.com Ricordate il codice sconto Ricordate di sbrigarvi Riceverete tutti i vostri pacchetti E scrivete anche nelle note Se volete la confezione Se preferite la busta Che c'è anche magari Chi preferisce la busta Vabbè Poi ci sono anche un sacco Di novità Di parentesi bio Questi per regalini Tipo piccolini Perché costano Veramente poco E sono anche scontate Sapete In promolanzo C'è questo che Quando Dario L'ha visto Ha detto Ma che cos'è Un dolce Tipo una ciambellina È bellissimo È tipo un burro corpo È buonissimo Di parentesi bio Tutto naturale Ottimo Poi c'è anche Tipo lo shampoo solido Shampoo e balsamo solido Troppo carini Per i dei regalo Ripeto Costano Veramente Veramente poco Poi c'è questa qua Che è la maschera Troppo carina Ragazzi Esce già col pennello Che poi potete sfruttare Anche per altre maschere E anche questa qua Questa è anche un'altra Maschera a viso Una è purificante Una è illuminante Anti-age E poi ci sono Sono troppo belle Queste novità Parentesi bio Anche le mousse Mousse detergente Viso e corpo Idratante Perina e ambrosia Sono le due mousse detergenti Viso Sapete che io amo Le mousse detergenti Per il viso Comunque ragazzi Sono troppo carine Anche se Prendete una mousse E una maschera a viso Con il suo pennellino In omaggio Anche un regalo Anche un regalo molto carino Comunque ragazzi Queste qua Anche vanno a ruba Perché costano poco E sono anche scontate In promulanzo Comunque Gli aspettiamo Su Caritasshop.com Con anche il nostro Elfetto Per amore A preparare tutti i vostri Pacchettini di Natale E poi Poi vogliamo far vedere Tutti gli acquisti Che abbiamo fatto Di Natale Anche questo maglione Allora Questo qua L'ho preso Ragazze Da Tezenis E' troppo troppo carino Ed è di Natale Vedete E' troppo carino Ti piace amore? Bellissimo Poi Il mio amore Ha preso tutte queste cose Stupende per Daniel Queste qua Per vestirlo Questo no Tezenis Allora No Questo qua L'abbiamo preso Da Prenatale Amore Vuole parlare Lui Secondo mia amore Ci sta dicendo So che parole Perché se hai fatto Il vaccino È stato un po' Incazzato Comunque Queste qua Poi le vedrete Indosso a Daniel E gli faremo Delle meravigliose foto Per Natale E Dario Dove le comprate Queste qua Da Prenatal Quindi Se vi interessa Da Prenatal Poi Ragazzi Allora Io ho preso No 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 Sono troppo nervosa Allora Ho preso questi maglioncioni Che voi mi avete chiesto Pagati pochissimo Da Stradivarius Ragazzi È bianco Nero top Poi ho preso Questo leggings Non so bello Ragazzi ve lo dovete prendere Comodissimo Date Zedis Un po' Felpatino Mi è piaciuto Un sacco E c'ha tipo Una trama Come se fosse Vedete Tipo di Non lo so Di coccodrillo Non so Non spiegarmi Poi questo maglione Anche ho preso Con le lune Troppo carino Che si abbina benissimo Con la mia collana Con la luna Troppo maglione di Natale Troppo belli Questi maglioncini Troppo carini Poi Dario dopo Vi deve far vedere Le sue acquisti Che sono troppo belle Adesso vi faccio vedere Anche questi qua Di Daniel Allora abbiamo preso Tutte cose sportive Tipo Delle tute Bellissime Guardate qua Questa è una tuta Della Nike Troppo bellina Che porta anche Il pantalone sotto Non vedo l'ora Perché io amo L'abbigliamento in tuta Sono tutte le tute Della Nike Quindi non vedo l'ora Di mettergliene Anche a lui Che ci facciamo Una bella foto Abbinati Questa è dell'Adidas E col dorato Stile Dario Super luxury E c'è anche il pantalone Sono troppo carine Queste tute Bellissime Per lui E poi ragazze Guardate qua Anche dei completini Ma c'era anche i bodini Sì Ma questi sono Allora Anche i bodini Ragazze Bodini Questo cos'è Jordan Giusto? Nike E Nike Con sapine Bodino E cappellino Adesso mi prendo io Daniel E dopo vi faccio vedere Qua cosa c'è Adesso Dario vi farò vedere I suoi fantastici acquisti Cominciamo dai boxer Amore non ci crederai Ma Dario le preggeva così Per il cappellino Questo qua Non ci ho portato i cappelli Amore di mamma Vimo boxer Tutti i boxer di Natale No vabbè Infatti quando l'ho visto Tipo da Dezenis Con questa roba Ho detto No Devo solamente filmare Il video Perché lui ha questo spirito natalizio Secondo boxer Cioè immaginate vostro marito Quando viene nel letto Queste mutande E voi Tutta la passione Sotto zero Questo è Zemamerone Vedete con i soldi Ah ecco Bellissimo Che poi Devo morgere Questo spirito natalizio Dario C'è un tutone Ah questo è super sexy Ragazzi Ragazzi C'è un tutone Un po' grande Un po' lungo Amore questo era bellissimo Anche per Daniel Non c'era Bellissimo Questi fate dei regali A vostri uomini Per Natale Questo Poi c'è la Maglietta Amore vedi che voleva Mamma cucciola di mamma Guardate com'è bellina Questa maglietta Questo è il shirt Di Babbo Natale Che va su un totoduna E poi Ci sono Di calzini Di Babbo Natale Antiscivolo di Natale Ti cibo Ti cibo Perché devo portare Calzio di scivolo E questo È tutto Ragazzi Noi vi auguriamo Un Natale Meraviglioso E favoloso So che tanti di voi Sono incinti So che tanti di voi Come me Hanno Un po' da copo C'è ancora un'altra cosa Amore Ah si Allora Questa è la coperta Di Natale Amore La dobbiamo mettere sul letto E ci dobbiamo fare Una bella foto È bellissima Questa qua L'ho presa Sicura voi dovete mettere sul letto Con la portatina No Dove lo avete sul divano Comunque ragazzi Vi stavo dicendo Vi facciamo tantissimi auguri Di buon Natale Per noi è Natale speciale E so anche per voi Alcune che Anche voi siete incinte O come me Siete neomame O comunque neogenitori Come noi Ed è un Natale Veramente speciale Speriamo di avere Innanzitutto La salute Che è la cosa più importante Per noi E per i nostri bambini Salute e amore Io direi Amore Poi il resto è secondario E serenità Eh certo La serenità Poi quella interiore Se si ha Secondo me La salute e l'amore La serenità Cioè La devi avere per forza Sero stupido Se sei un musone La cosa fondamentale Quella Salute e amore Amatevi Vi diamo Tanti auguri Tanti auguri Buon Natale Vi auguriamo Tanta felicità Tante cose belle E fate bravi Fate bravi Se fate bravi Se un babbo Natale non viene Se un babbo Natale non viene E vi aspettiamo Su caritashop.com Speriamo che Tutti questi sconti E queste cose Vi facciano piacere Anche il codice sconto Buon Natale Quindi con la mia slitta Vi porto i pacchi Per il 24 notte Saranno tutti a casa Per fare tante Tante scorte Tanti regali Autoregali Un bacio grande ragazze Merry Christmas Oh 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 Anche da Daniel Ci vediamo il 24 Ciao a tutti Ciao Ragazze Non vi ho fatto vedere La chicca Allora Sono andata Da Max Mara Mi sono fatta Un autoregalo Bellissimo Ragazze Mi sono presa Un super cappotto Super bello Volevo troppo Questo qua Di Max Mara Ragazze Super Fashion E di moda Poi ve lo farò vedere Indossato Un cappotto Molto lungo Che porta Tipo vestaglia Porta la cinta In vita Di questo colore Che lo volevo Tantissimo E quindi Me lo sono preso E poi La commessa Gentilissima Mi ha fatto abbinare Questo cappello Sempre di Max Mara Che secondo me Ci sta bene Basta Ciao 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 Grazie a tutti.